A poche settimane dalla trasferta dello scorso 21 luglio, durante la quale aveva visitato la Val Malenco, giornata tutta Val Chiavennasca per l'assessore al turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Lara Magoni. Da prima la riva a Gordona e poi il trasferimento in Val Bodengo, dove l'abbiamo incontrata in un momento di pausa, davanti ad una fetta di fugascia, dolce tipico qui in Val Chiavenna. Non sono più le mete blasonate o mature che piacciono, ma queste piccole identità del territorio attraverso la cultura e luoghi storici, attraverso anche pergorsi enogastronomici e legati a prodotti locali. Un turismo in evoluzione che cambia col mutare delle abitudini e delle vicissitudini sociali e dei consumatori. L'anno in corso, tediato dalla pandemia e contraddistinto dal cosiddetto turismo di prossimità, premia di fatto quelle realtà turistiche maggiormente in grado di seguire quelle mutazioni. E la Val Chiavenna, che offre un caleidoscopio di offerte turistiche sagomate attorno alle nuove figure di utenti, si conferma così in meta di viaggiatori alla ricerca di natura, certo, ma al contempo di arte, tradizioni, storia ed enogastronomia. Ad accompagnare l'assessore regionale Marco Masetti, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Sono molto contento di questa sua visita per un rilancio dei nostri territori, dei territori che magari noi lombardi stessi non conosciamo. E che dovremmo tutti conoscere per un rilancio proprio del territorio. Un territorio che, non senza incognite, prova a proiettarsi sull'evento olimpico invernale del 2026. Lara Magoni, ex sciatrice azzurra, tre volte olimpionica, ha le idee chiare. L'Olimpia di 2026 rappresenterà ancora una volta per il territorio lombardo una grande opportunità di crescita, soprattutto attraverso le infrastrutture. Infrastrutture che sono essenziali per chi ci vive, per chi ci viene e per chi vuol creare economia attraverso le aziende, ma soprattutto il turismo. Nel primo pomeriggio l'appuntamento a Palazzo Bertemate Franchi di Piuro, a seguire la visita alle cascate dell'Acquafragia ed il trasferimento a Chiavenna, dove l'assessore Magoni ha visitato la collegiata di San Lorenzo. Ho scelto di venire qui perché sto viaggiando tantissimo per conoscere al meglio la nostra regione, perché voglio essere la prima testimonianza di quante belle regioni Lombardia, perché la mia estate sarà senz'altro in Lombardia.